Dal 21-22 di novembre arriveranno nuovi vaccini, quindi saranno circa 40.000. Saranno distribuiti ai medici di famiglia e quindi i medici di famiglia già dai primi fine novembre e primi dicembre potranno richiamare tutti i loro assistiti che non hanno ancora ricevuto il vaccino, over 65. Questo l'impegno dell'Ulsa 2 nei giorni in cui le scorte del vaccino antinfluenzale scarseggiano anche negli ambulatori dei medici di base. Del resto la corsa al siero è stata massiccia. Tanto che abbiamo vaccinato il 35% in più dell'anno scorso, quindi siamo arrivati intorno al 75% dei vaccinati, che il target una volta era il 60. Intanto in queste ore lo stesso direttore generale ha comunicato a prefettura, camera di commercio, sindacati il protocollo ostilato per la gestione del contagio in azienda, questo il punto più saliente. A fine dell'isolamento, mi interessa dirlo, dopo passati quindi 10 giorni come del DPCM, la persona che deve rientrare in lavoro dovrà fare il tampone molecolare. E a proposito di tamponi, apre martedì il secondo drive-in dell'area castellana, dopo quello di Altivole spesso congestionato, sarà nel parcheggio davanti alla discoteca Melodi dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14. Con l'aiuto dell'esercito, che ringrazio quindi dei militari, che vengono anche loro a fare tamponi insieme ai nostri, se servirà a aumentare l'orario, come abbiamo già fatto in altri covi, poi lo aumenteremo.